Agropoli si conferma anche per quest'anno città dello sport, con tanti eventi in programma per la primavera 2017. A partire da questo weekend, infatti, il centro cittadino sarà animato da un ricco cartellone di eventi, che coinvolgeranno tantissime discipline sportive, dall'atletica al calcio, dal trekking al volley, dalla danza sportiva alla mountain bike. Lo sport è un prezioso volano per la valorizzazione e la promozione del nostro territorio, afferma il sindaco Franco Alfieri. Da alcuni anni stiamo focalizzando energie e risorse, anche finanziare, su un settore che rappresenta già per la nostra città un importante motore di sviluppo economico. Risultati ottenuti in virtù della realizzazione del potenziamento dell'impiantistica, oggi finalmente moderna ed attrezzata, per ospitare manifestazioni di levatura nazionale non solo. Agropoli prosegue il primo cittadino, ha tutte le carte regola per diventare uno dei centri dello sport sia a livello nazionale che internazionale, nel quale sviluppo innovazione e politiche sinergiche possono favorire chiari elementi di vantaggio competitivo ed attrattività. Abbiamo sempre creduto che lo sport potesse divenire una leva trainante per il turismo, afferma l'assessore allo sport Eugenio Benevento. E oggi, dopo dieci anni di impegno, raccogliamo i frutti di questa programmazione. Andiamo avanti su questa strada e sappiamo che possiamo contare sull'impegno e la collaborazione delle tante associazioni cittadine. Grazie Grazie Grazie